Oggi siamo qui il 12 e il 13 aprile a fianco del telefono azzurro, proprio per combattere la violenza contro i minori. Questa è una grandissima iniziativa e siamo in 2.000 diazze italiane. A fianco di un'offerta noi chiediamo semplicemente 12 euro in cambio di un fiore, proprio per ricordare la violenza contro i minori. Noi saremo oggi dalle 9 del mattino fino alle 20 di sera, sia oggi che domani. Inoltre noi stiamo cercando di sensibilizzare, il nostro obiettivo è di sensibilizzare la tematica, questa grandissima tematica contro la violenza. E purtroppo stiamo vedendo che il territorio salernitano ancora non è a conoscenza di questo, o meglio, o fa finta di non avere a conoscenza o hanno paura. Ma soprattutto quando vengono viste, quando una persona vede questa violenza, un atto contro un minore, contro un adolescidenza. Quindi noi, il nostro slogan, oggi si chiama Non stiamo zitti. Diamo un grido a tutta la cittadinanza. Grazie.